www.feyyaz.tv Mi butto prima io? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Nonna Mi parli ancora di lui? Tuo fratello non ti lasciava mai sola Quando ti ha vista appena nata Ha detto che eri sua Io non l'ho mai vista lui morto Tuo papà non ha voluto Papà non ne parla mai Se le cose non le dici Non ti possono fare male